Oh, oh, oh Ciao pagatone, potete paquettare? Let's go! Sì, siamo pronti Perché oggi Diciamolo Dobbiamo cercare Blastoise Blastoise, che fa l'attacco? Fa l'attacco? Idropompa! Idropompa E come faremo a trovare Blastoise? Li cercheremo Con la collezione di Zapdos ix E Alakazam ix Tommy è andato a prendere intanto l'idropompa E noi nel frattempo vi ricordiamo che il video è in collaborazione con il Federick Store E con il codice sconto poca aspettativa avrete il 7% di sconto Quindi approfittatene Perché oltre a sostenere il canale Riceverete anche le nuovissime carte autografate Da poche aspettative Quindi mi raccomando Approfittate di questo super sconto E fateci sapere anche cosa troverete voi in questo set 151 Ma andiamo a vedere queste collezioni Brigatevi perché queste stanno andando a ruba Io posso dire che tra le due preferisco Alakazam Alakazam ha rubato il mio cuoricino No, a Tommaso piace più Zapdos Quindi Alakazam lo apriamo dopo Iniziamo con la collezione di Zapdos ix E perché vuoi aprire questo Tommi? Perché quello è piccolo C'hai capito? Questo è piccolo Quello è piccolo Quindi Zapdos che è grande Infatti ha la carta Jumbo Però i pacchetti sono gli stessi Sono quattro dentro Sempre quattro pacchetti Ma quale collezione sarà la più fortunata? Zapdos è bella perché ha questo giallo dorato Che è molto particolare Proprio trasmette potenza Questo giallo Ed eccolo qui Abbiamo la promo di Zapdos ix La numero 49 Poi abbiamo la olografica di Electabuzz Che è la numero 125 del set Poi abbiamo Zapdos La Jumbo di Zapdos Per gli amanti delle Jumbo Questa è molto carina dai Noi le collezioniamo Ma non abbiamo un album per le Jumbo Le teniamo da parte Vi lascio il codice per il boss Di Zapdos Di Zapdos E ex Molto importante Iniziamo con il primo pacchetto di Tommi Vediamo se è tornata la magia Codice Codice per noi Non lo vende Eh non lo fai vedere E se lo prende Eccolo qua Codice per noi Non lo vende E lo lancia Oh 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 Drowzy Bulbasaur Dratini Ma non c'è lui Growlite Midorina Raticate Invito di Erika Kingler Ivisaur Masha E Energia Sempre lui Tutte Tommaso le trova Adesso tocca a papà Ragazzi qua c'è Blastolz No Me lo sento Questo è il codice Tottose Ecco Subito l'Energia Energia Electabuzz Raior Regà Regà brilla Tangela Koffing E' la penultima Pidgeot E' la penultima Omanite E' la penultima Taurus E' la penultima No no è l'ultima E' l'ultima Whipping Bell Paras Pronti 3 2 1 Ehi Oh Ci manca Ci manca Questa Bellissima E' come questo Alla kazam E vai Allora Blastolz la troviamo dentro alla kazam No Zapdos Ragazzi papà Un punto Ha soffiato Oddio qualcosa c'è C'è Eh si Ragazzi Allora Paras Voltorb Krabby Senju Hypno Polivrat Pianodo Pidgeot Bulbasaur Oh che bella Illustrazione di Poli Un'altra 3 su 3 Regà c'è C'è sempre queste energie Olo Belle Bravo Totto Bravo Totto Un maso come al solito vince Coi punti Questo è il codice che vi farà pullare De tutto e de più online Beh già due pulle eh Ma regà 4 su 4 4 su 4 Olo Quindi quando vi chiedete è difficile Trovarle No No Sono belle però sì Guardate che swirl che ci sono Se li beccate Qua ce n'è uno gigante Growlite Ceo dude Jigalipoff Jigalipoff Bellissimo Jigalipoff Starium Hunter Goldock Pinsir Keng Orsi Keng Magneton E Villarum Giustamente io ho l'unico pacchetto voto Vabbè ragazzi Due bellissime pull Da Zapdos Quindi ci riteniamo molto soddisfatti Molto soddisfatti Ma Ma Non abbiamo finito Alla Kazam Che era la mia preferita Eh chi lo sa Cioè allora innanzitutto Partiamo da questa scatola Che Lavina ha già la rotta infatti Ecco Tieni un pezzo per lavi Questa scatola stupenda Di Alakazam EX A parte essere bella In questo formato Quadrato Che mi piace Mi piace Perché non è Alakazam Quindi è un po' più ridotta La cosa bella che hanno fatto Senti che figata Quelli dei Pokemon Company Che si sono inventati Nella promo Non c'è solo Alakazam Noo Ci sta pure Abra E Cadabra Bello Cioè ci sono tutti Capito Tutta l'evoluzione Per me è stupendo Avete fatto bene Mi piace E infatti Ne teniamo una sigillata Perché è bellissima Bellissima Non l'apriremo mai Mai Tra l'altro Tu Stai dicendo Che ci manca solo Blastoise Ovviamente parlando solo Delle carte importanti Perché Quale altra carta Vogliamo e non l'abbiamo trovata Vediamo se è la prima Che ti viene in mente Ci manca Carisma di Giovanni Oh no Di quelle che dico Che ti piacciono Che non puoi trovare Il Pikachu Ah è vero Il Pikachu Io voglio il Pikachu Illustrazione Che è stupendo Qua a fianco Vi faccio passare Tutte le carte Che ci mancano Sono 24 Con Alakazam Quindi 23 adesso Facciamo vedere queste promo Siamo messi bene però Col Master 7 Questa è Abra La prima Sì col Master 7 Molto bene Mewtwo No questa è Alakazam Quale Mewtwo Eccolo qua Alakazam Bellissima E questa è Cadabra Che ritorna Dopo tanti anni Bello Nel collezionismo Di carte Pokemon Molto bello Dopo tutta la controversia Che c'è stato Con Cadabra Tommy distribuisci Vediamo io Don tuo papà Va bene Ci sto Ha soffiato Amore Tommy mi vuole sfidare Ha deciso di sfidare Il campione Codicino L'hai fatto vedere bene Sì Lo faccio vedere io Eccoli qua I due codici Io sono quella di Bulbasaur E tu sei Eh io quella di Spetal Bravo Energia Drosy Bulbasaur Slopo Bulbasaur Bendaricita Tu Ductrio Graveler Machop Paras Caputops Solo Papafiro Dratini Ditto Ditto niente Quindi in parità Non vince nessuno Il resto è sfidata con mamma allora Ah vuoi sfidare mamma Con mamma Il codice è per voi Mi raccomando Anche Totto Vi dà il suo codice Totto ha già l'olo Quindi è mezzo punto Pronti Sporicorn Belsprut Electapal Orsi Raiorn Nidoran Tangela Abra Snorlax Sandlash Io vedo brillare Nidorino Goldi Widol Omastarolo Vediamo mamma Quando ho visto Mela Rai don No Non è cimoccia Non ci manca E vai No ma io ho visto quella dietro Ragazzi Lo sapevo Doppio pull Che ti ho detto Che c'era Doppio pull Dai Ti ho Sì Il totto L'ha trovato Sì Ragazzi Tutte e due Ci mancano Non ci credo Pazzesco Tony Lei che ha detto Squirt E vai Non ci posso credere Non ci posso credere Abbiamo trovato Blastoise Che ci mancava Che però Non è quello Alternative Attenzione Noi avevamo detto L'alternative Questo vuol dire Che mamma E' andata A prendere il gelato Eh sì Mamma E' andata A prendere il gelato Fragole e banana Comunque A parte tutte le energie Eolo che abbiamo trovato Che sono considerate pull Ma noi ne abbiamo trovate tantissime Abbiamo pullato bene Oggi abbiamo pullato bene Due da una parte Due dall'altra E su queste quattro carte Tre ci mancano E tre a tema acqua poi Siamo super soddisfatti E' vero Quindi le collezioni Di Zapdos e Lakazam Meritano Meritano Anche perché poi sono quattro pacchetti Quindi alla fine Diciamo pochi pacchetti Eppure abbiamo pullato tantissimo Quattro pacchetti a collezione Quindi in totale Otto Quattro pull Vuol dire Ogni due pacchetti Una pull Bene Bene Per questo video è tutto Mi raccomando Andate sul Federick Store A fare un po' di shopping Con il nostro codice sconto Lui comincia Mi raccomando Iscrivetevi Perché se non vi iscrivete Non mettete mi piace Ciao Di chi sono loro Del Team Rocket Del Team Rocket Quindi mettete mi piace Mi raccomando E noi ci vediamo Al prossimo spacchettamento Ciao 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 Ciao